Quanto avresti guadagnato se avessi investito 1000 euro in Tesla quando è andata in borsa? Non è passato molto tempo, solo 10 anni fa. Fai una supposizione. 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro? Sarebbero tutti risultati ottimi, ma non ci siamo nemmeno vicini. Se avessi investito 1000 euro in Tesla il 7 marzo 2011, oggi quell'investimento varrebbe quasi 120.000 euro. Il tuo guadagno totale da quell'investimento oggi sarebbe di 100 volte il tuo capitale, con un rendimento anno del 61,26%. Investire 10.000 euro in Tesla nel 2011 ti avrebbe trasformato in un multimilionario, e se avessi investito 100.000 euro non sapresti nemmeno cosa fartene di tutti i soldi che avresti guadagnato. Ma è stata una grande scommessa, lo so. Tesla è valutata così tanto a causa delle incredibili abilità di marketing di Musk. Se guardi i numeri, Tesla è valutata in base a cosa potrebbe potenzialmente realizzare nei prossimi 5-10 anni. La paura di perdere l'occasione ha spinto molti investitori a puntare su Tesla, ma la domanda su cui vogliamo concentrarci in questo video è se hai 10.000 euro extra. Dove dovresti investirli? Quali sono le tue migliori opzioni? Ovviamente ci tengo a dire che la soglia dei 10.000 euro è semplificatoria, e questo discorso si può applicare anche a chi ha a disposizione meno soldi. Ovviamente si avranno guadagni ridotti, ma si può comunque applicare. Quindi, innanzitutto, se sei riuscito a risparmiare 10.000 euro, complimenti. Non molte persone ci riescono. La maggior parte delle persone risparmia malapena per un fondo di emergenza, e anche se riescono a risparmiare qualcosa, lo spendono rapidamente per cose non necessarie. Basta dare un'occhiata ai dati, la maggior parte dei giovani ha un patrimonio netto negativo. Il 69% degli adulti faticano ad avere 5-6.000 euro di risparmi, mentre il 34% non ha proprio nessun risparmio. Quindi, con 10.000 euro extra, puoi considerarti tra il 30% più ricco della media. E ora la domanda è, a cosa aspiri adesso? Cosa dovresti fare con questi 10.000 euro? C'è un modo per raddoppiarli o triplicarli? O forse farli crescere fino a diventare milioni? Risponderemo a tutte queste domande e molte altre ancora. Ma prima di farlo, dai a questo video il like che si merita. E ricordati di iscriverti, perché è fondamentale per raggiungere la libertà finanziaria. Cominciamo subito. Numero 1. Azioni individuali ad alto rischio. Il mercato azionario può fare miracoli, specialmente quando c'è un'azienda che sta per sconvolgere un determinato settore. Il mercato azionario può schizzare in su in un periodo di 10-15 anni. Non sto parlando di un aumento del 10-20%, ma di migliaia di percentuali. Amazon, ad esempio, è salita del 212.000% dal suo debutto in borsa nel 1997. Questo è più di qualsiasi altra azione. 10.000 euro investiti in Amazon nel 1997 valgono ora 21,3 milioni di euro. Tuttavia, Amazon non è l'unica azienda che si è sviluppata in questo modo. Un altro esempio è Best Buy, che ha registrato un aumento del 108.000%, o circa il 26,2% all'anno dal 1999. Un investimento di 10.000 euro in Best Buy nel 1990 vale ora 10,9 milioni di euro. È facile sentirsi male per aver perso un'opportunità del genere, ma non dovresti farlo perché ci sarà sempre l'approssimazione pronta ad esplodere. Ogni giorno nascono imprese con l'intenzione di sconvolgere tutto, quindi un modo in cui spenderai 10.000 euro extra in alcune imprese tech che sembrano avere il potenziale per cambiare un settore specifico. Non ne sceglierei solo una perché potrei fare una scommessa sbagliata, ma dividerli in tre o quattro aziende potrebbe portare a una grande fortuna a lungo termine. Numero 2. Attendi l'occasione giusta. Uno dei più grandi ostacoli che ho incontrato è la paura di perdere un'opportunità. Ogni giorno che tengo i soldi sul mio conto in banca, sto perdendo soldi. Prima di tutto per l'inflazione che riduce il valore reale dei miei soldi. In secondo luogo, sto perdendo i guadagni potenziali che potrei ottenere semplicemente investendo nell'S&P 500. Ma quello che ho imparato dopo aver commesso molti errori è che non bisogna affrettarsi. Va bene se perdi un rally di mercato, il mercato è sempre in movimento. Non cercare di approfittare di tutte le piccole opportunità, ma cerca di concentrarti sulle vittorie principali e se non sei sicuro, tieni i tuoi soldi. Ricorda le due regole più importanti di Buffett. Prima regola, non perdere soldi. Seconda regola, non dimenticare mai la prima. A volte ti capita un'opportunità che sei sicuro di essere un'occasione unica nella vita e quei 10.000 euro potrebbero trasformarti in un multimilionario. Questo è il momento di investire. Numero 3. Prova con un'impresa. Se hai una famiglia o delle responsabilità finanziarie, forse non dovresti intraprendere questa strada, poiché c'è un rischio maggiore di perdere i tuoi soldi quando avvii un'attività. Tuttavia, se hai tra i 20 e i 35 anni, potrebbe essere proprio ciò di cui tu hai bisogno. Hai pochissimo controllo sulle azioni e su altri beni quando investi in essi. Qualcun altro decide cosa fare dei tuoi soldi, quindi la crescita del tuo denaro è determinata da quanto lavorano duro gli altri. Ma quando investi in un'azienda su cui hai il controllo completo, anche se le cose vanno male, puoi investire più tempo, essere più creativo e fare qualunque cosa al riguardo. Quando si tratta di avviare un'impresa, capisco che 10.000 euro possano non sembrare molti soldi. È molto più facile quando hai un grande capitale, ma questo è il punto. 10.000 euro sono sufficienti per iniziare, specialmente quando si tratta di qualcosa online. Le persone avviano imprese online spendendo solo una frazione di quella cifra, quindi non ci sono scuse. A questo proposito, conosco vari modelli di business online che si possono avviare, anche potenzialmente in modo gratuito, quindi se siete interessati fatemelo sapere in un commento. Giusto per capirci, non faccio riferimento a cose tipo il dropshipping, perché che lo vogliate o meno, per iniziare un business di questo tipo, servono un po' di soldi. Comunque, continuiamo. Numero 4. Fondi pensionistici integrativi. A volte ci lamentiamo di come le persone ricche evitino di pagare tasse creando schemi complicati e finiamo per colpevolizzare la corruzione del sistema. Tuttavia c'è un modo semplice per evitare di pagare tasse che chiunque può utilizzare, ma spesso non lo fa. Un fondo pensionistico integrativo è un conto di risparmio pensionistico individuale in cui puoi effettuare investimenti praticamente esenti da tasse. Aspetta un attimo, niente tasse? Come è possibile? Beh, paghi le tasse sul tuo reddito quando lo ricevi, quindi i tuoi soldi sono già stati tassati. Se usi quei soldi per investire in un conto pensionistico integrativo, non sarai tassato nuovamente e dovrai solo pagare delle commissioni. Il tuo reddito non sarà tassato, indipendentemente da quanto cresca il tuo investimento. Funzionano un po' come i roti IRA utilizzati dagli Stati Uniti, che non sono altro che dei conti risparmi che permettono alle persone di evitare legalmente il pagamento delle tasse. Ovviamente in Italia non esiste un esatto sostituto dei roti IRA, ed infatti per i fondi pensionistici integrativi ci sono alcune limitazioni, ma riputo comunque che possano essere perfetti soprattutto se si pensa che l'alternativa sia lasciare il proprio denaro sotto al materasso a perdere valore. E infine, immobili. Ma cosa puoi fare con solo 10.000 euro in immobili? Prima di lasciare un commento negativo, ascolta ciò che ho da dire. Ciò che distingue gli immobili da altri asset è la possibilità di utilizzare in modo sicuro la leva finanziaria. Potrebbe essere difficile trovare qualcosa con 10.000 euro, ma puoi facilmente controllare proprietà del valore di 3 o 400.000 euro con 20 o 30.000 euro quando utilizzi la leva. Nel forex, nel mercato azionario o nelle criptovalute, il tuo broker chiude immediatamente la tua posizione se il prezzo dell'asset scende al di sotto dell'importo che hai depositato. Ma quando si tratta di immobili, la tua banca non può farlo, poiché ha un contratto di mutuo a 30 anni. E per di più puoi anche far pagare il mutuo ai tuoi inquilini. Sì, non sempre si trova un buon affare immobiliare, specialmente ora. Tuttavia, in base alla prova storica, i valori immobiliari crescono sempre nel lungo termine. Sono crollati nel 2008, si sono ripresi entro il 2013 e sono in aumento da allora. Ciò significa che i tassi di affitto saliranno eventualmente a un punto in cui la proprietà sarà redditizia. E non abbiamo nemmeno considerato l'idea che il valore dell'immobile crescerà nel tempo. Se hai risparmiato 10.000 euro e sei pronto ad investirli, significa che sei abbastanza disciplinato da poterli raddoppiare, triplicare o farli crescere di molto di più. La cosa più importante è non affrettare la tua decisione, non lasciare che la paura di perdere un'opportunità ti spinga a sperperare i tuoi soldi. Grazie per la visione.